quale articolo della costituzione italiana promuove la cultura e la ricerca scientifica l'articolo 9 della costituzione italiana promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica tutela inoltre il paesaggio e il patrimonio storico artistico della nazione recentemente questo articolo è stato modificato si è aggiunta anche la tutela dell'ambiente e della biodiversità degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni la legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali anche gli animali vengono tutelati dall'articolo 9 6 6 6 7 8 9 8 9 10 10 11 12 15 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Al prossimo video. Vi aspetto.